Trovamo che era una partita difficile perché loro erano riduci da questa serie di sconfitte casalini, quindi avrebbero provato come è stato a partire forte, un po' per disattenzione nostra, un po' anche per trovare loro, siamo andati sotto di 10-12 punti, poi piano piano abbiamo cominciato a giocare la mia partita, tenendo un po' in mano la partita, tenendo poi negli ultimi minuti per alcuni errori clamorosi nostri contropiedi, sua apertura di contropiede, palla persa lungo la linea laterale, del nostro miglior giocatore che poi è stato determinato nell'ultimo tiro finale a vincere la partita, ci eravamo complicati molto la vita, sapevamo che in un finale punto a punto avremmo potuto avere dalla nostra tranquillità di chi ha giocato parecchie partite in questo momento, così punto a punto ne ha vinte tante e quindi abbiamo gestito bene le ultime difese, penso che il reddoppio su Walker, su due situazioni uguali, siano state la chiave di lettura delle due palle perse, siano state la chiave di lettura della partita, della nostra voglia, della nostra determinazione anche in una giornata in cui non siamo stati particolarmente più grandi e specialmente a titolare di Putin.